ben ritrovati in questo nuovo video training di photoshop dove vi faccio vedere la novità di agosto 2021 appunto in photoshop sicuramente la novità che a tutti noi fa sempre piacere ed è più eclatante è quella di aggiunta di nuovi cieli sappiamo che photoshop ha creato questa funzione sostituzione cielo e adesso in sostituzione cielo possiamo creare e ottenere nuovi cieli dove li troviamo se andiamo qui sotto cielo qui c'è questa rotellina e qui posso cliccare ottieni più cieli e qui guardate si apre nel vostro browser in adobe la finestra dove possiamo scaricare più cieli guardate abbiamo qui i sunset possiamo cliccare su download spettacola download night sky blue sky storms ok tutti questi gruppi di immagini di cieli possiamo tirarli giù e dunque basta cliccare su download e il download viene effettuato ovviamente nella cartella di download allora io qui già la cartella download ad esempio spettacola pack 1 punto sky come installare questi nuovi pacchetti di cielo è molto semplice intanto devo chiudere il pannello sostituzione cielo e dunque ho qui la mia immagine e poi nel download dove ho scaricato i pacchetti in questo caso ho scaricato appunto tutti cinque i pacchetti basta prendere trascinare sull'immagine e poi vedete che photoshop sta elaborando un attimino e dopo di che non succede nulla non succede nulla apparentemente perché se adesso torniamo in modifica e apriamo sostituzione cielo voi vedrete che tutti i cinque pacchetti sono disponibili in effetti vedete abbiamo spettacola pack andiamo a vedere vedete qui tantissime bellissime immagini addirittura guardate qui che bello abbiamo un'aurora boreale e dunque questa sicuramente molto indicata per questo tipo di immagini con questa piccola chiesina islandese ma poi abbiamo naturalmente anche altri pacchetti appunto i blue skies sono vari tipi di cieli blu oppure abbiamo i night skies queste notturne che sono molto utili storm pack tempesta e poi infine sunset vedete anche qui abbiamo vari tramonti io direi però di lasciare questo qui come vedete le impostazioni poi per quanto riguarda la gestione del cielo e dell'adattamento del cielo all'immagine sono rimasti uguali potete gestire il bordo vedete spostando il bordo dunque trovare una soluzione per il bordo avete sempre a disposizione il pennello che consente togliendo aggiungendo del cielo all'interno dell'immagine vedete oppure potete aggiungere o quant'altro e poi possiamo regolare la scala dunque quanto deve essere grande ecco così già mi piace di più e la temperatura e la luminosità ovviamente come abbiamo già visto in precedenza e poi naturalmente l'adattamento del colore all'immagine dunque l'adattamento colore cielo e immagine dunque questi riflessi verdi magari qui sulla neve e la regolazione del luce più o meno luminoso e poi infine l'output volete un nuovo livello o duplicare il livello lascio nuovo livello confermo con ok e dunque come avete visto questa funzione arricchita di sostituisci cielo è veramente molto bella proprio perché da adobe abbiamo avuto in regalo questi nuovi cinque pacchetti con dei cieli molto belli ricordatevi comunque sempre che in sostituzione cielo voi potete importare direttamente anche le vostre immagini come cielo non siete legati solo al fatto di aggiungere con ottieni più cieli i cieli dell'adobe ma potete importare qualsiasi cielo come immagine jpeg dalle vostre immagini dunque questo è sempre bene tenere presente comunque una novità assolutamente molto gradita